I migliori extravergine biologici del mondo e in giuria gli esperti da tutti i continenti. Si chiama Biole, il concorso che mette a confronto gli oli. Quest'anno sono 425 e provengono da 17 paesi. Non a caso si tiene ad Andria, territorio più olivetato d'Italia. L'occasione per evidenziare come stia prendendo sempre più piede l'agricoltura biologica, stando alle ultime rilevazioni, se gli operatori biologici italiani sono circa 50.000, quelli pugliesi sono quasi 7.000, il 70% dei quali opera nel settore olivicolo. E dei quasi 165.000 ettari di oliveti biologici in Italia, circa 55.000 si estendono in Puglia, facendone la prima regione olivicola bio della penisola. Oltre 20.000 le tonnellate di olio biologico prodotte per 70 milioni di euro in valore commerciale, circa 20 milioni in più rispetto a quanto ricaverebbero gli operatori se non lavorassero in regime biologico ma convenzionale. Venerdì 21 la premiazione del vincitore nella cornice di Castel del Monte. Abbiamo più di 6.000 produttori agricoli che coltivano col metodo biologico e i produttori olivicoli ne beneficiano con un prezzo che è almeno il 30% superiore a quello del prodotto convenzionale.